ben trovati questo è il video introduttivo per presentare il nostro nuovo canale un canale che si chiamerà penile implant channel esclusivamente focalizzato e dedicato sulla implantologia protesica peniena è un nuovo portale web dove abbiamo deciso di illustrare tutto quello che porta il paziente a decidere di effettuare un impianto di protesi peniena per il deficit erettile e tutto quello che è il percorso dalla decisione al risultato finale quindi spiegheremo come funziona la protesi quali sono i modelli di protesi in commercio quali sono le differenze tecniche tra le varie protesi qual è l'approccio chirurgico che noi utilizziamo spiegheremo ovviamente anche l'approccio penosclotale oltre che quello infrapubbico e faremo vedere il decorso post operatorio avremo anche un forum dedicato per rispondere a tutte le domande di tutti i pazienti una mail un forum e soprattutto poi ci saranno tante tante testimonianze di pazienti prima e dopo la chirurgia protesica abbiamo deciso di sviluppare questo nuovo servizio soprattutto con tantissimi contenuti video proprio per far capire ai pazienti quello che possono ottenere scegliendo di effettuare questo tipo di chirurgia che nelle mani giuste nei centri ad alto volume di implantologia protesica peniena da un risultato di soddisfazione del 100% e soprattutto abbatte notevolmente i rischi della chirurgia i rischi dell'infezione della protesi che sono il deterrente principale per il quale il paziente poi rinuncia a fare questo tipo di operazione questo tipo di intervento chirurgico siamo felicissimi di questo di questo nuovo percorso che stiamo intraprendendo vi aspettiamo sempre più numerosi già abbiamo avuto tanto tanto successo con i surgery tube e speriamo che il canale dedicato all'implantologia protesica peniena sia di vostro gradimento e possa compensare un pochino e risolvere tutti quei dubbi che ancora vi attanagliano prima di decidere di risolvere in modo definitivo il problema di deficit erettile che vi portate dietro da tanti tanti anni grazie ci vediamo prestissimo con i nostri contenuti